Sindaco Luciani, è partita l'operazione Mare Pulito, stabilito il cronoprogramma per i lavori al depuratore? Sì, io penso che protestare sia giusto perché i cittadini hanno diritto di avere il mare limpido, però non bisogna fermarsi solo alla protesta, bisogna garantire che questo mare tornerà ad essere quello che era e noi lo stiamo facendo, lo stiamo promettendo, ieri siamo stati in conferenza dei servizi con l'ACA, ci hanno finalmente esposto un preciso cronoprogramma per i lavori di riparazione che entro fine marzo saranno tutti completati. Ovviamente non ci fermeremo qui perché saremo sempre a vigilare, però c'è sicuramente un'aria d'ottimismo, inoltre in costruzione il terzo depuratore, quindi possiamo contare che quest'estate non ci saranno più di vieti di balneazione. Io sono convinto di questo, ci credo, perché il nostro mare deve tornare veramente a splendere. Lavori che inizieranno quando? Lavori che inizieranno a giorni, c'è un cronoprogramma sia per gli interventi a San Silvestro sia a Fosso San Lorenzo. Sono due rotture, entro fine marzo l'ACA ci ha garantito che i lavori saranno ultimati, inoltre verranno fatti una serie di lavori al depuratore Pretaro e prosegue, come ho detto, la costruzione del terzo depuratore in Valle Anzuca. Quindi si sta facendo tutto ciò che è possibile, perché l'estate scorsa purtroppo abbiamo avuto queste negatività, siamo stati col fiato sul collo a tutte le istituzioni, devo dire che abbiamo però anche trovato persone disponibili ad affrontare il problema, quindi l'annuncio che lancio è basta proteste, ora è iniziata l'operazione mare limpido, bisogna portarla fino al termine. Grazie.